Nella penultima giornata il Pineto pareggia per 0-0 sul campo difficilissimo nel Roma City, dopo il primo tempo chiusosi a reti bianche. Nella ripresa nessuna delle due squadre riesce ad avere la meglio, si deciderà tutto tra sette giorni nel derby fratricida contro Lavastese. Il match incomincia con un calcio di punizione battuto dall'Osicco, Opara sventa in corner l'attenzione per i rispettivi obiettivi palpabile, con nessuna delle due compagini che riesce a trovare sbocchi. Gli abruzzesi vogliono centrare lo storico traguardo, Giambè sgroppa, pallone al bacio per Maio, contrato in corner. Ci prova ancora all'undici di mister Daniele Amaulo, nonni sale in cielo, palla fuori di poco. Nella ripresa la partita non vede su Sulti, al quarto d'ora su corner, Pisanu, ammonito in precedenza, centra involontariamente la traversa. Dalla parte opposta, Maio, bisturi per Giambè, ma ancora una volta, attento, Opara si salva in angolo. Sentendo tramite le classiche ragionine il vantaggio della vigora Senigallia, il Pineto spinge a solo di foglia. Ancora una volta, i padroni di casa si rifugiano dalla bandierina, dalla battuta contropiede dell'undici di mister Statuto. Perfetto appoggio di Perroni, Pisanu però spara le stelle, i biancazzurri vogliono centrare lo storico obiettivo. Braghini, neo in tratto, appoggia per Emili, Super Ropara si oppone con Maio in spaccata che non riesce a insaccare. Nel finale non succede più nulla, i biancazzurri ci provano con tutte le loro forze. Ma il Roma City riesce a conquistare un punto in ottica salvezza. Si deciderà tutto tra sette giorni nel più classico dei derby allo stadio. Mariani Pavone contro la Vastese. Grazie. 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 Grazie.